Ciao, sono Diego Che fai? Allora, io sono stato chiamato per fare tutti quei lavoretti tipo cambiare lampadine Quelli l'hanno già detti, cosa fai? Allora, io ho fatto il ballerino fino ad oggi, come in Italia Gay TV Conduro una chart dance Avendo un minimo di background, insomma, legato al mondo dance E più avanti mi occuperò di un programma legato alle coreografie e ai video musicali Che si chiamerà 5, 6, 7, 8 Adoro, balleremo tutti per fare un po' di gluteo sodo Grazie, ci vediamo dopo alla festa e non bevete croccio